Casa della chiave, centro assistenza e il pesce. Siamo a Como e dobbiamo salire sopra a Brunate, che è quel paesino lì, con la funicolare. Vedete quel casottino rosso che sale fino a là. Ecco, dalla strada sterrata tra le case proveremo noi uomini. Qua c'è il passaggio a livello, noi non superiamo comunque le barriere come, appunto, siamo abituati noi a vedere il mondo da uno stretto cunicolo da dove proveniamo tutti quanti, danni a uomini. Grazie. 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 Grazie a tutti. aged l'assistenza che serve e qua le antiche mura della città. Le antiche mura di Como. Nella nostra brunate lì sopra. La funicolare scende e noi la prendiamo. Sì, le schifo così ci attivano, no? Eh, sì, dai. Sì, le schifo così. Sì, le schifo così. Sì, le schifo così. I serpenti in vendita, naturalmente di gomma a piuma. Serpenti in vendita, di gomma a piuma, serpentoni. Il riguole, bellissimi serpenti in vendita. Questo prende tutto. Si ha il grosso serpenti in vendita. Se abbiamo tempo andiamo al faro voltiano. Il faro voltiano. Adesso cercheremo di arrivare. Ecco amici, andiamo al faro voltiano. Io e Maurizio, youtuber Mauri, video attualità, andiamo al faro voltiano. In questa dimora, esule della sua patria, si spense nel 1912, il grande poeta patriota bulgaro, Pencio Slavijosko, a cura dell'unione degli scrittori bulgari. Eh, questa è storia. In questa casa. Ecco casa sua. Dove? A Brunate. E di sotto, infatti, il panorama. Faro voltiano. Uè, Gennaro, io riprendo te. Si. Eh, però, prima dava di qua. Siamo qui. Andiamo al faro voltiano. Andiamo al faro voltiano, se lo troviamo, andiamo. Questa è la mia trezza. Il faro voltiano. Di là. Gennaro. Arrivo. Tu riprendi me. Si. Eccoci. Eccoci amici. qui. Stiamo salendo. Stiamo salendo. Per andare al faro voltiano. In salita al faro voltiano. Saliamo sull'ultima rampa di 19-20 minuti, almeno così le indicazioni, al faro voltiano. Io, Gennaro Giolmini, youtuber Mauri, video attualità. Se la faremo sicuramente, sarà una vista spettacolare. Maurizio, allora, 11 minuti ce la facciamo. Speriamo, perché sono già abbastanza stanco. Beh, abbiamo fatto il resto, facciamo anche gli ultimi 11 minuti. Il resto del Carlino. Sembra realistico il tempo, perché prima indicavano 19 minuti, adesso 11. Beh, ma ce la faremo. Ce la faremo. Fare voltiano. Un quattro passi. 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 Sì. Vediamo. Gattini. Abbiamo incontratto statunque i gati. Nicciolini. Una famiglia di gatti. Ci son tutti gli YouTuber riuniti. Ecco. Questi chi va? Guardate, stanno ma... stanno pappando. Guarda li quanti, oh! Sorri riuniti. Guardate. Mini. Ma che belli. Ma va, ma è pieno eh. Ma che roba. Più di gatti. sfidati quella siamo tanti è la famiglia brambilla qua veramente la famiglia brambilla quello sta mangiando avidamente ciao ecco arriva l'altro arriva l'altro arriva l'altro io sono Lucconi per l'altro la è Matteo Montesi una pianta come ce l'avevo a casa tanti anni fa bellissima ho trovato il crocco sui muri che descriveva mia mamma in un racconto il crocco lo descriveva mia madre in un racconto una casa all'antica con balconcino in legno Maurizio una casa all'antica ci sono ancora le case all'antica siamo venuti da di là e adesso ci accingiamo ad andare bellissimo posto fiorellini e montagne la chiesa con una casa stile antico ecco Maurizio lì che fa vedere il faro voltiano da fuori e di fatti ecco il faro voltiano ci siamo veramente riusciti ad arrivare alessandro volta l'inventore della pila grazie al quale facciamo questo video ecco maurizio ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta mettiamoci pure di qua facciamo vedere col panorama che veramente ce l'abbiamo fatta siamo saluti fino a qua parla lì su che minaccia si può andare su là puoi andare e puoi pagare da su? si ma paghiamo andiamo paghiamo su ok paghiamo andiamo ecco cari amici e sotto il lago di Como incredibile cari amici eccoci sul lago di Como a Brunate e questo è il bellissimo lago bellissimo lago di Como che si unisce al lago di Lecco dei promessi sposi di Alessandro Manzoni qui abbiamo anche Alessandro Volta e in particolar maniera ecco il faro il faro di Alessandro Volta ci sono le tre croci bellissimo posto qualcosa avevo visto prima saliamo al faro voltiano ecco che iniziamo le riprese al faro voltiano saliamo su iniziamo le riprese al faro siamo entrati siamo entrati abbiamo dei problemi adesso saliamo bene saliamo saliamo su vediamo questa volta quanto ci vuole di salita da Maurizio ce la facciamo anche questa scalata è tutta nostra anche questa scalata è tutta nostra Maurizio anche questa scalata è nostra ce la facciamo qui siamo al faro guardate qui guardate che bestia qui ma bisogna salire più in alto facciamo il giro qui si giro giro dai Maurizio saliamo si ma infatti questo è tutto quello che abbiamo fatto per salire e questa è la parte sopra noi qua dalle finestre possiamo ammirare un panorama fantastico che dà verso il lago di Como fino verso il lago di Como quindi benissimo continuiamo la nostra scalata e stiamo per salire su in vetta al faro Voltiano venite con noi al faro Voltiano arrivo Maurizio sono scattato una marea di foto si perfetto Maurizio fa le foto perché anche le foto bellissime farle da qua non solo le video bellissime foto video tutto le foto Maurizio le mette su Facebook seguite anche Maurizio video Mauri dimensione video attualità anche su Facebook la pagina dei fan ciao a tutti ciao a tutti bellissimo cari amici ce l'abbiamo fatta siamo saliti qui sul faro Voltiano se riusciamo a far vedere bellissimo il lago quindi oggi è il 7 agosto 2016 domenica Gennaro Gelmini siamo venuti su al faro Voltiano Brunate Como Gennaro Gelmini e youtuber Mauri ciao a tutti ce l'ho fatta youtuber Mauri video attualità seguiteci mettete un bel like un bel like un bel like seguiteci mi raccomando non una lecca un like non non una lecca un like comunque niente mettete un bel like mi raccomando un bel like ecco qui il nostro lago ecco qui il lago di Como come lo volevate il lago di Como il lago che insieme al lago di Lecco sono laghi uniti è il lago dei promessi sposi di Alessandra Manzioni benissimo amici bellissima giornata bellissimo sole senza la nuvola quindi siamo riusciti a godere del panorama di tutto l'aria fresca tutto bello Brunate c'era un bel venticello adesso è tutto bello tranquillo siamo riposati riposati abbiamo fatto una scalinata però sì incredibile però la pace che c'è qua al faro voltiano di Brunate la pace che c'è ci dà un'armonia che ci fa stare sereni bellissimo davanti al lago di Como bellissima giornata fantastico Mauri sì fantastico è stata un'esperienza unica e niente sempre insieme sempre insieme diciamo a fare queste belle esperienze di viaggi anche faticose ma però ne vale la pena la domenica va bene anche fare queste cose qua ci vogliono ci vogliono in effetti comunque niente durante questo panorama saluto anche i fan di Gennaro Germini guardateci mettete un bel like la youtuber Mauri video attualità Mauri video attualità e niente a prossima esperienza da prossimi video vi salutiamo e un abbraccio a tutti quanti alla prossima benissimo cari amici bellissimo posto alla prossima siamo tornati sul lago di Como un abbraccio